Questo programma è offerto da La vecchia soffitta, mercatino del nuovo e dell'usato, in via Don Blasco 75 accanto al Flexus Centro Sportivo Football 24, un'oasi sportiva immersa nella città IML, idee per ambienti funzionali, a Villa Franca Tirrena, area Expirelli Le previsioni del tempo per la provincia di Messina Oggi, martedì 10 dicembre, cielo nuvoloso su tutta la provincia, possibili precipitazioni, ampie schiarite previste in serata Le temperature saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi I venti, soffieranno moderati da nord sul versante tirrenico, deboli da nord-ovest su quello ionico I mari, mosso il tirreno, poco mosso lo ionio Domani, mercoledì 11 dicembre, ancora cielo tendenzialmente sereno, poco nuvoloso, sia sul versante ionico che su quello tirrenico Non subiscono variazioni le temperature che oscilleranno tra i 13 e i 15 gradi I venti, soffieranno moderati da nord sul versante tirrenico e da sud-ovest su quello ionico I mari, poco mosso sia il tirreno che lo ionio I venti, soffieranno moderati da nord-ovest su quello ionico I venti, soffieranno moderati da nord-ovest su quello ionico Grazie a tutti.